ma soprattutto l'orgoglio per rimettere su le istituzioni siciliane ed ecco perché quando qualche settimana fa nel mio comune è venuta Giovanna Marano che io ho conosciuto tanti anni fa, non in un palazzaccio l'ho conosciuta in un'iniziativa a Centro Sociale Aura del 2004 in sostegno di Giovanni Impastato che aveva avuto una condanna da fattere i badalamenti addirittura i soldi volevano là ci siamo conosciuti come ci siamo conosciuti con la maggior parte di voi qua nelle strade da attacchinare a fare le cose concrete e questa è l'esperienza che a Palagonia vogliamo portare avanti perché quella di Palagonia, lo hanno detto benissimo in tanti non è solo una scommessa dei palagonesi abbiamo iniziato a mettere un germoglio e quel germoglio noi speriamo si possa veramente trasformare almeno in un grande esempio da seguire per gli altri comuni perché del mio era il comune dove di fondazione comunista prendeva 130 voti agli europei appena due anni dopo al pallottaggio ne abbiamo presi 6.350 quindi non fatevi spaventare quando parliamo dei numeri anche noi riusciamo ad accoglierli i numeri grazie. grazie. Grazie.